La tredicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato l'eccellenza del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta da Yancor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. L'eccellenza dell'anno, innovazione e leadership di micronutrizione e il premio va a Metagenics. Eccoli, li facciamo avvicinare. Capiamo anche il perché di questo premio, per essere una produttore a livello globale e scientifico di micronutrizione, per condividere costantemente le esperienze e le informazioni scientifiche, per usare sempre i migliori ingredienti e per il lavoro a stretto contatto con gli specialisti del settore. Buonasera, eccoli qua, Metagenics. Buonasera, benvenuti. Eccolo. Foto di rito. Complimenti. Eccellenza dell'anno, innovazione e leadership micronutrizione. Ancora con i metagenics. Grazie, grazie. Siamo in compagnia del dottor Michele Di Qual, direttore generale di Metagenics Italia. Benvenuto. Grazie. Questa sera siete stati premiati per il secondo anno consecutivo come eccellenza dell'anno nel settore della micronutrizione. Ecco, come ci commenta questa vittoria? Beh, ovviamente siamo molto contenti. Per noi di Metagenics la micronutrizione è il core business, ci occupiamo quindi di integrazione di micronutrizione e di ricerca scientifica, quindi per noi l'innovazione nell'ambito della micronutrizione è quello che deve essere il punto di forza ed è quello che ci distingue in questo settore molto, diciamo, in crescita, molto sotto l'occhio dell'attenzione del mercato, un mercato in crescita e l'innovazione è quello che porta poi le grandi novità e quello che porta poi a distinguere le aziende che riescono in qualche modo a generare nuovi prodotti, a generare realtà che in qualche modo dal punto di vista scientifico riescono a portare veramente dei benefici per la salute, quindi per noi è molto importante questo premio. Ecco, il 2023 è appena cominciato, le chiedo quali progetti e quali obiettivi vi siete prefissati per quest'anno? Beh, quest'anno come già annunciato, come già dichiarato, l'innovazione, la ricerca, e gli studi clinici e il portare avanti quello che è il nostro punto di forza, quindi l'innovazione, diciamo, si conferma anche per quest'anno. Noi vogliamo, vorremmo in qualche modo essere riconosciuti da un più ampio platea possibile di specialisti, di medici che in qualche modo si occupano e gestiscono, diciamo, i propri pazienti e gestiscono la prevenzione, perché con la non micronutrizione ci si occupa di prevenzione, di salute, con prodotti ad alta tecnologia e con alta evidenza scientifica. Noi ci occupiamo di ricerca, di evidenza scientifica e quindi quest'anno, come del resto è la nostra storia, vorremmo incrementare questo tipo di risultati e questo tipo di eccellenza che ci contraddistingue. Do il benvenuto alla dottoressa Evi Van Ino, direttore marketing di Metagenics Italia. Grazie, buonasera. Ecco, tra la vostra sede in Italia e le altre sparse nel mondo avete uno scambio costante. Ecco, le chiedo come viene organizzato questo scambio, come si definisce e quali obiettivi si pone. Sì, in effetti per noi è molto importante questo scambio internazionale. Abbiamo filiali in tutto il mondo, in America, Australia, ovviamente anche in Europa dove ci troviamo noi e questo scambio per noi è importante non soltanto per i dipendenti stessi di Metagenics ma anche per i nostri clienti perché è una garanzia, perché noi sfruttiamo le sinergie a livello mondiale e ci vantiamo dell'expertise di livello mondiale, dunque per la creazione e la commercializzazione di micronutrizione di alta qualità. Questo per noi è importante, qualche esempio forse, che abbiamo così con un ente internazionale, un'azienda internazionale la possibilità di collaborare con università renomati, con società scientifiche famose in tutto il mondo per dimostrare l'efficacia e la qualità dei nostri prodotti. Facciamo anche altre cose, per esempio abbiamo partnership con i più importanti o i migliori fornitori così che possiamo davvero garantire un'efficacia terapia poi anche agli specialisti locali come quelli sul mercato italiano ovviamente. e questa missione, questo si vede anche dal fatto che ogni giorno in tutto il mondo consegniamo più di 100.000 prodotti, dunque detto con le parole della nostra mission, aiutiamo nel mondo ogni giorno più di 100.000 persone a vivere una vita più sana e più felice e questo per noi è molto importante. Do il benvenuto al dottor Maurizio Salamone, direttore scientifico di Metagenics Italia. Benvenuto. Grazie. Oltre a tutti i prodotti dedicati al sostegno delle difese immunitarie e ai probiotici, quattro mesi fa avete lanciato una novità, ovvero The Ackermansia Company, di cui vantate una distribuzione esclusiva sul mercato italiano. Ecco, di cosa si tratta? Sì, la distribuzione esclusiva riguarda appunto l'Europa ed è un nuovo paradigma nel trattamento sia della funzione di barriera gastrointestinale sia nel controllo del metabolismo. Ackermansia rappresenta un batterio buono, è uno dei batteri buoni che ci aiutano a stare in salute, ma grazie alla ricerca e all'innovazione tecnologica è adesso disponibile come ingrediente per una nuova classe di integratori che vengono chiamati Next Generation Postbiotics. Questa nuova classe di ingredienti è già oggi disponibile per il pubblico sotto forma di un semplice integratore che può essere assunto con una compressa ogni giorno, per aiutarci a mantenere il nostro metabolismo in condizioni ideali, per aiutare la funzionalità gastrointestinale e addirittura influenzare l'efficacia di alcuni trattamenti chemioterapici. Quindi tanti aspetti che si raggiungono contemporaneamente con una sola sostanza.